Giulio, sai, ti volevo dire una cosa Dimmi, dimmi, dimmi Ecco, bravo, sai dove siamo andati a prendere questo apparecchio? Eh, lo so Agli scavi di Ostia Antica Agli scavi di Ostia Antica No, perché? No, perché abbiamo appreso Sì Da un nostro autorevolissimo follower Che i VTL che abbiamo provato una quindicina di giorni fa Sì Hanno uno schema progettuale vecchio di centinaia di anni Ma pensa, bravo Allora ci siamo chiesti, ma questo qui che è di molto antecedente Sarà stato progettato nell'antica Roma E infatti ci ha chiamato un Il sovrintendente agli scavi archeologici Ha detto guardate, c'è una cosa per voi Esatto, questo lo ascoltava Giulio Cesare Giulio Cesare Quando si voleva rilassare Ascoltava questo qui Allora, Leben 300XS Che è il più piccolo amplificatore del catalogo della giapponese Leben Che ha una produzione molto ridotta, molto ristretta Di sofisticati ed elegantissimi apparecchi a valvole Ed è un oggetto che in prima battuta Personalmente mi ha affascinato e colpito In virtù della sua veste estetica Guardate che meraviglia Verde, dorato, fianchetti in legno E' veramente bello Bello, bello, bello Proprio fa innamorare a prima vista Ho detto questo Poi suona veramente molto molto bene E' un apparecchio che però va inquadrato Nei suoi limiti Che ci sono Come molti apparecchi Ma in questo caso i limiti sono dettati anche da considerazioni tecniche Però una volta che si è capito Con chi si ha a che fare E' veramente un apparecchio E' particolarmente gratificante Benissimo Allora, subscribe, campanella, seguiteci A tra poco A tra poco Takuyodo Takuyodo E' il progettista nonché proprietario Di questa azienda nipponica Takuyodo che ha un curriculum vitae niente male Essendo stato il capo progettista della Luxman Ai tempi anni 70 del secolo scorso In cui la Luxman insomma Poteva dire la sua E ti dirò che l'estetica di questo Leben Mi ricorda in qualche modo i Luxman Di quegli anni Ecco, questa è una cosa Che balza subito all'occhio Vai con gli appunti Però io che non ce li ho davanti Ma io posso dare anche a memoria A questo punto Li ho letti talmente tante volte Allora, quando è nata la Leben? Non lo so Nel 2004 Non so se la Leben è nata nel 2004 Il modello è del 2004 Forse la Leben non lo so Il modello è del 2004 Cambiamo canale Il modello è del 2004 Ed esce come Leben 300 Già nel 2006 subisce una prima evoluzione Diventando 300X Montando un quartetto di Mullard NOS New Old Stock Che il nostro amico Yodo Si era evidentemente procurato Essendo un collezionista Bravo Siccome è un collezionista Prima di tutto Pare che sia ancora A tutt'oggi Un collezionista di valvole Quindi ha comprato tante valvole Tante da farci un certo numero di 300 Con le valvole Mullard Poi è uscita la versione X Nel 2012 Questa è la X Nel 2012 Gli finiscono Giusto Gli finisce lo stock delle Mullard E deve comprare Softex Deve comprare Adattarsi alle EL84 A marchio Softex Si A questo punto è interessante Notare che Tra il modello X E il modello IXS C'è stata una Notevole Rivoluzione tecnica Perché Moltissima componentistica È stata sostituita Componentistica passiva E anche i trasformatori Sono stati modificati Proprio per cercare Di utilizzare al meglio Queste Softex Le Softex In luogo delle Mullard E oggi Ci sono le Softex Oggi ci sono le Softex Quindi tutto questo per dire Che tra il modello XS Attuale E l'X Sebbene il progetto Sia il medesimo A livello di componentistica Non sono lo stesso Quindi se volete affacciarvi Sul mercato dell'usato A prendere una versione vecchia Attenzione perché Ottimizzata per le Mullard E non per le Softex Ci sono differenze di suono Io non lo so Quanto poi sia rintracciabile oggi Un quartetto di Mullard Nos Selezionate E quanto costa Soprattutto E soprattutto quanto costa Che probabilmente costano Un occhio della testa Allora posso dire una cosa Allora Oltre a Uno Due Tre Quattro Cinque ingressi Che si chiamano Line 1 Line 2 CD Line 3 Line 4 Dove il CD È quello centrale Controllo del volume Bilanciamento C'è una cosa molto curiosa Che è questo Bass Boost Sì Una specie di loudness Forse Chi lo sa Zero Scusami Zero più tre Più cinque Credo intorno ai 100 Hz Una cosa del genere Allora È interessante questa cosa Dunque Questo Bass Boost Preleva il segnale Dal circuito Della controreazione Lavora soltanto Nella gamma bassa Il loudness Invece Lavora Sia in gamma bassa Che in gamma alta Il loudness Si basa Sugli audiogrammi Sulle curve Normalizzate Di Fletcher e Munson Che Sì È un audiogramma Che utilizzano Gli otorini Esatto Fondamentalmente È praticamente È qualche cosa Che ha a che fare Con la nostra sensibilità Dell'apparato uditivo Umano In funzione Del livello E Se il livello È molto basso Devi Innalzare La gamma bassa E la gamma alta Questo invece Lavora soltanto In gamma bassa L'idea qual è Che se tu stai facendo Un ascolto Magari Notturno E non vuoi disturbare Più che tanto I tuoi familiari O il vicino Che sta Alla parete Adiacente Con questo sistema Riesci a salire Un pochettino A dare un pochettino Più di corpo In gamma bassa Il perché Delle diverse Regolazioni Naturalmente È fatto Per adattarla A differenti Diciamo Che è anche un po' Il gusto Del nostro Chiodo E poi Qui sotto C'è Tape monitor Va bene E poi Uscita cuffia Che tanto ti piace E interruttore Speaker E headphones Questo Viene Molto Utilizzato Ed è piuttosto Quotato Nel mercato Degli amplificatori Per cuffia Perché ci sono Alcuni Che lo usano Solamente Per amplificare La cuffia Questo Ci porta A La considerazione Che il 300XS Un po' Come Mi sembra di ricordare Il prima luna Che avevamo recensito Qualche tempo fa Utilizza Non un operazionale Messo lateralmente Utilizza Assolutamente L'amplificatore Vero e proprio Esatto Tra l'altro Per chi Riuscisse a leggere Il latino Perché questo Lo schema C'ha Le nome in latino Perché È un po' vecchio Lo schema Forse l'hanno tradotto In greco antico Forse in greco antico Esatto Vedrà che L'uscita della cuffia È messa direttamente Come tu hai detto Sull'uscita degli altopallanti Semplicemente Con una resistenza Di caduta Poi Siccome noi Avremo A breve Alcune cuffie Da provare Le proviamo pure Con questo E le farò provare Anche a Giulio Sì assolutamente Il mio esordio In modo In modo da capire Che differenza c'è Fra un amplificatore Per cuffia A stato solido Moderno E un amplificatore Invece A valvole Fatto in questo modo Però Una cosa Chiodo Chiodo Come caspita Ti chiami tu Non capisco Perché c'è il led Sull'interruttore Di alimentazione E quello Di accensione Sono quasi La stessa cosa Allora L'interruttore Di alimentazione Si accende Ovviamente Quando tu dai corrente All'interruttore Ah questo si accende Operation Si accende Poco dopo Ovvero Quando le valvole Sono state Vedi che ha studiato Ma me lo sto ascoltando Perché mi piace tanto E quindi Quando le valvole Sono A temperatura O quantomeno Sono in grado Di suonare Perché poi Questo oggetto Per suonare Come sa suonare Secondo me Un tre quarti d'ora Un'oretta Deve stare acceso Però ecco La valvolina rossa Cioè la lucina rossa Ti dice Operation Tutto ok Può suonare Tra l'altro C'è da dire Scusami Che siccome Le L84 Non scaldano Poi chissà quanto Questo Anche se Con un po' Di spazio intorno Non è così critico Come un amplificatore A valvole Con Di potenza Più alta E che quindi Ha bisogno Di un volume D'aria Esatto Questo potrebbe pure Essere forse Chiuso dentro Un mobile Un po' Grande Un po' Alto Sventriamo No aspetta Aspetta Ancora volevo dire Una cosa Del selettore rotativo Per la regolazione Dell'impedenza Abbiamo detto Lo stiamo vedendo Sulle immagini Che vanno In questo momento Del pannello posteriore Ci sono I binding post Che sono Dei moderni VBT E sono Effettivamente Canale destro Canale sinistro Positivo Negativo Non c'è Lo sdoppiato Del positivo Come succede In altri valvorai Non c'è bisogno Non c'è spazio E poi comunque C'è questo selettore Che fa questo mestiere Per chi Forse lo stesse domandando L'ingresso Fono Lo stavo per dire No non c'è L'ingresso Fono Se ti vuoi ascoltare Il giradischi Ti devi affidare A un Fono esterno E la Leben Guarda caso Produce Un ottimo Eccellente Fono esterno Molto bene Sono pronto Questo è facile Questo è facile Sono poche viti Sono pronto Andiamo Pronti Sventriamo Ciao Ciao Trasformatori di uscita Ok Ok Trasformatore di alimentazione Ok Questo è uno schermetto Che serve solamente Per evitare Che ci si scotti Con delle resistenze Di potenza Che stanno sotto Ma Se vieni qui vicino a me Al mio dito Questo è uno schermo Facciamolo vedere Ok Forse se ruoti Questo è uno schermo Dietro a questo schermo Che io ho già svitato Eccolo qua Ci sono i potenziometri Di bilanciamento Volume Questi sono degli Alps blue Molto simili a quelli che vediamo Con i controlli motorizzati Ok Questo invece È il commutatore Per il filtro dei bassi Guardiamo che ci sono Anche sopra i condensatori Che servono Per fare il filtro Ok Poi abbiamo Il commutatore degli ingressi E possiamo vedere Lo vedremo poi sotto Tutti i fili Che vanno fino ai pin Ok Perfetto E che possiamo Guarda lo giro Così facciamo una cosa più semplice Per i fili Lulz Ecco qua Questi sono tutti i pin d'ingresso Che vediamo da dietro E sotto poi vedremo La trecciola di cavi Che arrivano fino al commutatore Quindi non c'è qui Questo è un concetto degli anni 70 Non c'è la barra che serve Per portare il moto Della manopola dietro E quindi mettere il commutatore dietro Ma bensì Ci sono tutti i cavi E quindi è un cablaggio Completamente in aria Trasformatori Tutti fatti in casa Dalle ebbe Esattamente Sì Aggiungiamo Le quattro valvole Quindi le due Le valvole finali Le L84 Le L2 E le due valvole Preamplificatrici ECC83 Una per canale Perché ovviamente Questo fa un canale E queste tre Fanno l'altro canale Eccola qua Ok Da qua sopra Possiamo vedere Il commutatore Per la selezione Dell'impedenza Dei diffusori Che poi vedremo Sul pannello posteriore Ok Ok Zoccoli dorati Questo più pervezzo Fatemelo passare Che per una reale Funzionalità O Diciamo Per Un motivo tecnico Adesso giro Posso? Assolutamente Sì Ok Ovviamente Io ho scoperto Anche la parte di sotto E qui Assistiamo A un cablaggio Totalmente in aria La prima cosa L'abbiamo detto prima Questi sono tutti I cavi Che dai pin di ingresso Portano il commutatore Come abbiamo Avuto modo di vedere prima E poi qua C'è Un cablaggio Completamente in aria Non c'è Nessun circuito stampato Se non queste Che sono Semplicemente Degli appoggi Che servono Per Le saldature Condensatori Della Elna Molto buoni Componenti In generale Di alto Da qualche parte Ci devono essere Dei condensatori Della Nishikon Probabilmente Questo O sono questi qua Sono questi Eccoli qua Ah ok Sono questi Molto bella la terra Eccola qua Guardate poi Con che precisione Mi verrebbe a dire Precisione L'assemblaggio Veramente è un'opera d'arte Sì Sì È da Bellissimo Bellissimo Queste sono Le resistenze Secondo me Di uscita Dell' Dell'uscita cuffia Sono praticamente Convinto Che sia così Infatti Sì Perché questo Filo bianco Filo grigio Filo bianco Filo grigio Quindi queste sono Le resistenze Di caduta Dell' Dell'uscita cuffia Trasformatore Di alimentazione Infatti Con le uscite A 6,3 volt Queste per le Ecc 83 E queste per Le valvole finali Uscita di alta Tensione E ingresso A 230 Questo è Giapponese Stampo rosso Giapponese Eh sì Davvero bello Bello Una Una costruzione A me sembra poi Una costruzione Anche piuttosto Solida Insomma Estremamente Solida Sì Estremamente Questo Sembra di vedere Un amplificatore Degli anni 70 Con i componenti Moderni Sì Binding post Eccoli qua Infatti li stavo Inquadrando Questo è il tape out Questo è il morsetto Di massa Ok E questi sono Gli ingressi Dei trasformatori Di uscita Che infatti Fanno capo Alle valvole finali Che sono 2 e 2 Ottimo Ok Rimontiamo Sì Sì Sarò in grado Dai Ok Ciao Filmers Grazie Ciao Finalmente Ce l'abbiamo fatta No Perché Oggi Ci sono stati Un po' Di problemi Tecnici Con le riprese Allora Caro Sì Dove vai Ah Prende il foglietto Perché non ricorda Prendo il foglietto Allora Caro Giulio Dal punto di vista estetico Questo amplificatore È stupendo Mi ricorda un po' I tempi andati E allo stesso tempo Ha quella Sorta di Alea Di Modernità Anche Guardando il pannello posteriore Che ha i bidding post moderni Ha Gli RC addorati No Sicuramente I primi amplificatori Luxman Che costruiva Il nostro Chiodo Iodo Chiodo Chiodo Non erano fatti in questo modo Questo leben è un amplificatore magico Perché non ti aspetteresti mai Potenza Velocità E invece ci sono A voglia se ci sono Allora L'esordio In questa sala d'ascolto Di questo leben E risale oramai Più di un mese fa E' avvenuto E' avvenuto con Le 5 barra 9 Con le musical fidelity E diffusore Lo avevo detto Che mi aveva Sì mi era piaciuto Ma insomma Non è che proprio Mi avesse Smosso Il cuore E pilotato dal 300 300 XS Ha tirato fuori La sua personalità Ma questo è stato Uno degli aspetti L'altro aspetto Che mi ha Veramente colpito E' stato Quando tolte Le 5 barra 9 Abbiamo messo Le 3 barra 5 Sulla carta Un abbinamento Insomma A dir poco Ostico Perché E' un mini diffusore Pilotato da Con un'efficienza bassissima Pilotato da Un 15 watt Ecco Ho schiacciato play Che stavo In corridoio Ed è uscito fuori Un suono grande Cambiamo camera Un suono grande Un suono Corposo E io ho detto Magari Ci sono sbagliati Invece del 300 Ci hanno mandato il 600 Che è il fratello grande Da 30 watt E invece no Questa cosa Mi ha Colpito E insomma Mi ha fatto un po' Ragionare Sulla Sulle modalità Costruttive Di questo apparecchio Tra l'altro Noi lo abbiamo Poi successivamente Provato Anche con le Spender A4 E a maggior ragione Con le Paradigm Le Founder 40 Che sono diffusori Che hanno un'efficienza Via via Fino ai 92 dB Fino ai 92 dB Ora è chiaro Che un 15 watt Abbinato a un diffusore Da 92 Sta molto più tranquillo Molto più sereno E' in grado Di esprimere Un range Dinamico Molto più ampio Rispetto ad esempio Le 3 barra 5 Che stanno suonando In questo momento Ma La cosa interessante Però E' che Ripeto In ogni circostanza Questo lab Ha esibito Un mix Secondo me Veramente Magico Di Delicatezza Raffinatezza Corpo E velocità I primi due Sono due parametri Tipicamente Da valvolare Anche se qui Sono declinati In una maniera Un po' diversa Ma gli altri due Non te li aspetti Non te li aspetti Velocità e corpo Non te li aspetti Questo è il motivo Che mi fa dire Che Questo amplificatore Dovrebbe essere Osservato Preso in considerazione Da chi E' arrivato Quasi alla fine Del suo percorso audiofilo Per non dire alla fine Ovvero Non ne posso più Di Scatole Scatoloni Cavica Cablaggi Ingombri Voglio una cosa Che suona E basta Suona bene E basta Certo Questo va Scelto Con una certa maturità Come tu giustamente Dici Non Non Aspettatevi Di poterci sentire Gli SDC Con soddisfazione Perché ovviamente Non è il prodotto Adatto a quel tipo Di ascolto Mi viene da dire Sì è un po' Il prodotto Adatto Alla Tazza di te O il dito di barbon La sera Quando Vuoi Staccarti dal mondo E Vuoi partire Per un viaggio Del resto Che è un po' Anche Il nome Dell'amplificatore Come poi Tu facevi Giustamente Notare E quindi È questo È un amplificatore Maturo Per persone Mature Nel senso Di Bisognose Di qualcosa Che le faccia Sognare Che le faccia Partire Che le faccia Rilassare Visto Visto Da questo Punto Di vista Il prezzo Di acquisto Che vedete Adesso In sovraimpressione Non è Certamente Un prezzo Passatemi il termine Semplice Nel senso Che è Piuttosto Oneroso In quanto Tale È chiaramente Un prodotto Che ha Un suo valore Che tra l'altro È un valore Che viene Mantenuto Nel tempo Perché poi Non ci dimentichiamo Che il sito Della Leben È un sito Piuttosto Toscarno Perché Soprattutto Nel paese Del Sollevante Ma non solo Ci sono una schiera Di appassionati Di questo Amplificatore Addirittura Con dei blog Che parlano Solo Di quello E di quello Che si può fare Delle valvole Che si possono Cambiare Quindi è diventato Un po' Una leggenda Oggetto di culto Esatto Assolutamente E volevo Ancora ricordare Una cosa Durante gli ascolti Di questo apparecchio A me è tornata La mente Un amplificatore Che insomma Era un po' Sepolto Nei miei ricordi Che era Il Climo Beltane Che era Un monofonico Prodotto Dalla Climo Che aveva A bordo Una sola valvola Una 300B E l'alimentatore Separato Quindi il telaio Che conteneva La valvola Conteneva Questa specie Di lampadina Una grande E poi c'era Un energico Circuito Di alimentazione Quell'amplificatore Single-ended A dispetto Dei suoi Soli 5W Di potenza Ma grazie Ad un'alimentazione Particolarmente Curata Era in grado Di pilotare Diffusori Anche molto Impegnativi E uno Lì rimaneva A bocca aperta Dicevi Ma com'è possibile Che con 5W Soltanto Tu riesci A ottenere Questa pressione E con questa qualità Mi è ritornato in mente Ascoltando Il Leben 300XS Perché anche qui Con soli 15W Cambiamo Cambiamo Hai pressione E hai Qualità Lo dicevamo Pressione Non va A braccetto Con Valvole Va a braccetto Con stato solido Qualità Si va A braccetto Con valvole Però attenzione Non fate l'errore Di considerarlo Il valvolare Ruffiano Il valvolare Un po' Abboccato Il valvolare Che ti indora La pillola Questo è un valvolare E te ne accorgi Non potrebbe essere Altrimenti Ma è un valvolare Che Come dire Ha corpo Ha capacità Di tenere Bene I diffusori Che sta pilotando Quindi veramente È un equilibrio Piuttosto Strano Piuttosto Raro Da Da trovare E probabilmente È il motivo Del successo Di questo amplificatore Che da Nelle sue varie declinazioni Da quasi vent'anni È sulla breccia Il resto È uno Dei pochi Per i quali È nato Poi Tutta questa Sorta di culto Mi vengono in mente Le 3 barra 5 Mi viene in mente Qualc'altra cosa L'audio research SPO Sono pochissime I prodotti Per i quali Poi c'è Un C'è un seguito Così grande Di pubblico E le cose Non succedono Mai a caso No Non succedono Mai a caso Assolutamente Quindi veramente Prodotto molto interessante Ora io sono sicuro Che Molti tra quelli Che osserveranno Questo video Diranno Ah ma non esiste Il mondo Con 6.000 euro Io ci compro Chissà che cosa Posso rispondergli? Garbatamente E chi se ne frega No ecco Però a me interessava Sottolineare un fatto Cioè Quest'amplificatore qua Non lo dovete Parametrare A Gli amplificatorini Cinesi A valvole Da 1.500 euro Perché Non è quello Non è quello Stiamo ragionando Di una macchina Che Per me Può essere Serenamente Una macchina definitiva E quindi Essere una macchina definitiva Nella mia accezione Significa tante cose Significa che Non ho desiderio Di altro Che questa macchina Riescia ad appagare Completamente I miei Bisogni Audiofili Non è poco Non è poco Allora Subcribe Campanella Caro Giulio Instagram Facebook Ci abbiamo anche LinkedIn Pure? Sì Non lo sapevo Eh Abbiamo LinkedIn Abbiamo il sito Per cortesia Seguiteci E poi Lo voglio già dire adesso Lo dirò a tutti i video Il 15 maggio Bisogna che vengono Chi può venire Romano All'auditorium Perché c'è l'ultima lezione D'ascolto Con Danilo Rea Con Danilo Rea Nostro gradito ospite Ciao Ciao